Come guidare per risparmiare carburante. Una corretta guida della propria auto può consentire di consumare meno carburante. Seguite questi semplici suggerimenti. Evitate frenate o accelerazioni brusche e mantenete per quanto possibile una velocità costante. Utilizzate le marce alte. Non scaldate il motore a veicolo fermo. Spegnete il motore in caso di fermate superiori a due minuti. Controllate la pressione delle gomme. Usate correttamente l'aria condizionata. Evitate l'uso dell'auto per tragitti brevi.